Allora bellissimi, carissimi e bellissimi, meravigliosissimi Getalivers siamo qui riuniti anche stasera per fare quattro chiacchiere su questa piattaforma violacea e per intrattenerci in nostra e vostra compagnia siamo qui per ora con Ale Patrizzi, detto anche Kevin, detto anche Drazar, detto anche l'uomo l'uomo divano, l'uomo che permette che questa cosa funzioni e tutte le cose tecniche che ci stanno dietro a queste live l'uomo che pigiotta le cose l'uomo che pigiotta le cose più tardi avremo con noi anche altre personcine a modo per niente a modo comunque per niente a modo e andremo avanti così nel nostro lunedì sera l'altra volta siamo andati in onda di domenica questa volta di lunedì perché ci piace sperimentare fondamentalmente sperimentiamo, vediamo poi diteci anche voi in chat se è meglio la domenica sera che ve la passate sui divano dopo le scampagnate ora che siamo tornati a zona cial esatto, ma cosa ci fate a casa? ancora c'è 15 minuti di tempo libero andate a prendere una lecca qui fuori e ritornate fra un quarto d'ora noi stiamo così fermi, disaspetta date finire le aperitivi a Baracchini a modo insomma li vedete già in chat gli ospiti sono nascosti qui sotto qui sotto zitti e poi li tiriamo su basta per ora minchiate e parliamo di cosa andremo a trattare questa sera allora innanzitutto per chi ci avesse seguito solo da ora e non la scorsa la scorsa diretta il motivo per cui siamo qui su Twitch è che stiamo lavorando a un'ipotetica seconda stagione bam 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 abbiamo deciso di rimboccaccisi le maniche e partire a lavorare e partire a lavorare un pochino più in maniera un pochino più strutturata da gennaio da gennaio forse qualche mese prima qualche mese dalla fine del 2020 dopo aver fatto tutte le lezioni su Zoom di aerobica e tutte le possibili webinar e panificazioni di panificazioni abbiamo deciso ma c'è avanzato Get Alive guardiamo di riprendere no in realtà in realtà abbiamo visto che c'è del fermento nel mondo nel mondo del nerdismo e quindi abbiamo deciso anche noi rifarci è bello perché potrei fare quasi un green screen perché la parete il maglietta la mia carne sono di un unico colore quello stesso grigino che anche il nostro moderatore Edo percepirebbe come viola tutto viola visto che il colore per la maggiore va su questa piattaforma molto probabilmente dovrò mettere una luce più calda davanti vabbè lasciamo stare impariamo anche impariamo volta a volta come essere anche più affascinosi vedo puppe in chat che il bardo ferardo e ring mind girl saranno i nostri sono reggiseni che volano stanno già lanciando i reggiseni molto benissimo quindi Get Alive Strikes Back Strikes Back vediamo ce la metteremo tutta dire Strikes Back è forte è forte però l'intenzione ci stiamo lavorando a tal proposito queste dirette serviranno anche per tenere informati voi che siete la nostra fan base voi che siete la cosa per cui facciamo tutto sia la serie sia gli eventi sia queste dirette lo facciamo tutto soltanto per voi c'era quel famoso attore di quella casa di produzione di filmini osè non so se te la ricordi che guardava sempre guardava sempre in camera e faceva lo faccio solo per voi la 100% vero? molto bene anche noi immaginatevi immaginatevi noi in desabiliè che guardiamo in macchina e facciamo lo facciamo solo per voi solo per voi no no non immaginatevelo vi prego già vedo vedo gli emoticon con la gente in questa maniera comunque detto non riusciamo a finire un discorso serio neanche no ma va bene va bene così completateci le frasi vi prego e a questo giro ci siamo astenuti dal bene stasera argomentoni via grazie Elena grazie grazie ci ho l'acqua bene uno dei motivi per cui stiamo facendo queste streammate visto che possiamo dirlo visto che non c'è più duccio possiamo riappropriarci dell'inglese il motivo per cui facciamo queste streammate è di tenervi aggiornati sullo stato dell'arte della serie e del nostro lavoro sulla seconda stagione e per tenervi informati sul lavoro sulla seconda stagione vi diremo e abbiamo finito un lavoro sulla prima stagione in realtà che è grazie per il follow Dunedheim bene guarda ringrazia te Ale che io sto parlando sto interloquendo direttamente con la mia web vai vai mi stanno stordendo le orecchie le notifiche quindi ti interrompo mi piace mi piace quando ti stordiscono le notifiche insomma abbiamo finito un lavoro sulla prima stagione che è propedeutico a quella che saranno l'arco di evoluzione dei personaggi della seconda della seconda stagione ovvero abbiamo analizzato a distanza di tempo cercando di ricordarci quello che avevamo scritto soprattutto quello anche perché quello che è andato in scena poi è cioè non dico quasi un'altra cosa ma è insomma profondamente diverso è un'evoluzione è frutto un'evoluzione dalla carta stampata fino a un secondo prima di riprendere e e quindi abbiamo ripreso l'arco evolutivo dei personaggi della prima stagione visto che siamo qui a a parlare con voi e potremmo anche rendere i dotti su qualche qualche cosa di cinematografo ovvero l'arco evolutivo del personaggio è cos'è che lo introduce nella storia lo spinge ad andare avanti nella storia e poi alla fine diventare protagonista di essa ed eventualmente compiere o meno il motivo per cui si trova proprio lì in quel momento e quindi ne abbiamo discusso abbiamo discusso anche con Cristiano che è la persona che si è affiancata a noi che si è affiancata a noi nella stesura della seconda stagione e e quindi detto questo ecco hai detto hai detto una cosa l'altra volta l'avevamo l'avevamo già annunciato però forse ora che siamo in un ambiente un pochino più intimo e che non ci sono i disturbatori i disturbattori possiamo dire cioè che Cristiano Cristiano Gazzarrini si è unito al gruppo e con lui stiamo stiamo sviscerando questa questa prima stagione il gruppo si è compattato nei sette elementi che era prima in quattro elementi e ha preso e ha preso in più Cristiano che viene da diciamo ha un'estrazione non nerdica ma viene viene completamente dal mondo del cinema non ha questi tipi di contaminazioni però è rimasto affascinato da GetAlive ne ha visto un potenziale ha detto bene perché non ci mettiamo al lavoro poi sicuramente in una di queste live ci facciamo una chiacchierata insieme ve lo presentiamo così capite che comunque è matto come noi chi si somiglia si figlia in questo caso è più vero che mai e quindi volevamo visto che abbiamo finito questo questo lavoro volevamo come dire condividerlo con voi non tanto come una lezioncina di cinema ma proprio parlandone con i diretti interessati ovvero gli attori che a volte non sanno neanche il lavoro che è stato fatto dietro ora nel caso del sovra presente un po' sì perché ha partecipato anche lui alla stesura del suo stesso personaggio poi vi racconteremo anche che non doveva essere proprio così ma intanto vi facciamo un po' di spoiler della puntata all'interno della puntata e e quindi poi ne parleremo con i vari attori e cercheremo con loro di capire cosa ne pensano dei propri stessi personaggi e cosa poi voi che l'avete vista effettivamente avete carpito di questa serie se ci fosse in contatto con noi sulla chat o guardandoci nelle nostre facciacce sì siamo gente che ha fatto una web serie che si chiama Get Alive e che potete trovare su il tubo a Get Alive The Web Series se ora dovrebbero partire le come dire gli spam di Link esatto fatevi partire perché hai detto bene Gioà perché noi questa cosa la facciamo e ci aspettiamo soprattutto in questo primo periodo di farla per chi già un po' ci conosce oppure per chi ci conosce già da prima di Youtube da prima della serie e viene qui a offenderci o a dirci dei complimenti stupendi come quello del postino brutto che dice siete belli come una giornata all'Inps senza fila però ci sta che capite qualche d'uno è molto probabile e ci aspettiamo che capite qualche d'uno che non sa minimamente cosa sia Get Alive a parte questo piccolo video con le scene tagliate del secondo episodio e qualche link sparpagliato per la pagina può non capire ma questi che fanno perché stanno qui a parlare come altre 189 milioni di persone abbiamo fatto una web serie ed è giusto ricordarlo ogni tanto quindi ci sceleriamo ogni quarto d'ora 20 minuti e lo ricordiamo poi metterò magari una cosa automatica o un alert dentro la chat anche voi che usate Twitch per bene suggeriteci un po' di cose scrivete pure nella chat o mandateci messaggi su Instagram su Facebook dove vi pare bene anche anche lei la dice belli come la spuma bevuta al bancone del circolo questo è amore su quei bei banconi d'acciaio satinato dove l'unto si accumula strato dopo strato meraviglia su quello quello di Vinci quello di Vinci che è teatro di scene di scene veramente indimenticabili e alcune dimenticate e dimenticabili sicuramente sì io mi ricordo ormai ho lanciato questa cosa mi ricordo che dopo la una disfida di arti magiche a Vinci andammo tutti al circolo a prendere un camparino e c'è il nome bevemmo nel ghiaccio secco che c'era avanzato che c'era avanzato dal rituale dal rituale della disfena tutti con questo camparino fumante bella la disfida Vinci madonna la festa dell'unicorno ragazzi anche quest'anno sono lì lì ho letto qualche comunicazione che non sanno ancora di preciso quando e come comunicare se la faranno oppure no ho letto un post di facebook se qualcuno ha novità qui nella chat magari non sono aggiornato lo scriva perché già un anno è andato quest'anno veramente si spera di poter andare lì a non ricordarsi la festa dell'unicorno a non ricordarsi la festa dell'unicorno lo diranno a giugno lo diranno a giugno ok grazie Elena che è un insider perché poi insomma lo diremo quando toccherà a lei ma è stata pescata e prelevata da Vinci durante la festa dell'unicorno e purtroppo non abbiamo ritrovato il suo provino purtroppo perché sicuramente se la stavo messa in un hard disk ma tornando da Vinci chissà come mai non è stata acquisita o forse sì io l'ho visto da qualche parte questo video quindi c'è ma chissà dove in quali meandri di quali hard disk è arrivato un unicorno che dice la mia festa la mia festa bravo tra l'altro vorrei ricordare una cosa c'è qualcuno in chat prima l'ha scritto che hanno chiesto a quanti followers siamo e perché c'è una clip nel canale andatevela a vedere c'è una promessa di fra una promessa di fra che non conosceva forse bene il mezzo ha detto insomma si è esposto dicendo che farà una live di 24 ore consecutive al raggiungimento dei 100 follower io credo probabilmente bravi grazie grazie chissà contento fra e quindi appena arriviamo a 100 ci mettiamo a organizzarla ci mettiamo a organizzarla per rovinargli una giornata la vita no però una giornata la vogliamo rovinare 24 ore di delirio bravo bravo a 100 follower soltanto si è svenduto malissimo esatto esatto si si ha detto no no bisogna partire a gamba tesa dai 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 il giorno dopo quando si era tipo già a 89 o una cosa del genere mi fa oh no no Ale oh ma come fa come fa no dai 24 ore sono tantissime eeeh grazie fra grazie fra per questa 24 ore che streamerai per tutti noi bene direi che a questo punto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto aggiungiamo i nostri fantasmogorici ospiti direi ok un ospite è arrivato alle tue spalle guarda come ti punta eccolo si mi starà mangiando le miniature fra un po' lo vediamo si si è messo lì in contro luce perfetto di solito che l'altra nera si mette qui sopra il pianoforte perché proprio si sposa alla perfezione bene eeeh vai andiamo con il culturare bene prego potete potete entrare entrate vicississimi attendiamo si anche i miei anche i miei russano terribilmente eccoci eccolo eccoci allora è arrivato per primo il bardo Pieraldo detto anche Rateni ed eccola Enigmind Girl che l'ho riuscito penso sono riuscito finalmente a dirlo senza mangiarmi nessuna consonante guardate questa differenza verticale tra chi usa Twitch da tanto e chi no qui c'è il giallo grigio della vecchiaia e di là ma che poi tra l'altro siamo più o meno tutti della stessa età qui si si esatto siamo vecchi dentro siamo proprio vecchi dentro siamo gialli e grigi sono dei grigi diversi Edo vedi i loro grigi sono più giovani dei nostri grigi mi sta mangiando le miniature davvero aspetta il mini pose ma ha detto si può guardare su Twitch che d'è Twitch in questo bussalotto come vecchio questi fanno video chiamato attaccati ai telefoni edo grazie per la correzione colore che hai fatto su questa chat allora io vorrei vorrei dirvi grazie grazie intanto per la pazienza di queste settimane di consigli e di domande farraginose su come iniziare dove spostarsi che cosa pigiottare dove scaricare le cose per avviare per avviare questo canale di Twitch e cominciare a streamare per lo meno con qualcosa poi piano piano lo andiamo lo andiamo a migliorare devo dire uno dei motivi per cui siamo anche su su Twitch è dovuto a loro cioè non solo perché ci hanno dato grazie per il follow antro del gioco di ruolo bel nome gran bel nome bravo dicevo non solo perché ci hanno ci hanno spiegato come funziona questa piattaforma anche più di una volta e ci stanno dando una mano anche nella moderazione della chat eccetera eccetera ma anche perché ci siamo detti boh se ce l'ha fatto il ratè nella Iula cioè cioè che ci vorrà in realtà in realtà cioè farlo per bene è un gran macello è un gran macello ci vale un sacco di tempo abbastanza un sacco di passione e quindi insomma non è non è proprio semplicissimo poi quando cominci a spippolare vuoi aggiungere questo vuoi aggiungere quest'altro aggiungere quest'altro ancora siamo stati un mese a partire poi c'è detto vabbè tagliamo tagliamo il tagliabile e intanto iniziamo con quello con la cosa più basica di tutte e quindi grazie grazie per per quello mi si fa raccontare un po' cosa fanno infatti visto che doveva essere l'ultimo argomento nella nostra scaletta ma visto che le nostre scalette sono più o meno così come come i quei pupazzi che gli mettono il ventilatore sotto quelli che si muovano tutto in questa maniera io sono entrato col cappello perché mi sembrava un segno indistinguibile ecco esatto esatto sì sì ma perché nel fantasy puoi tenere il cappello appunto appunto poi ce l'ha ti vedo congelato e mi sa che ti vedono congelato anche il live mi sa che ti vedano come un cartonato di te stesso sì mi sono sì sì potresti fare questa cosa veramente weirdo e infilarti nella webcam di Julia mentre sei congelato da una parte sono ancora sono ancora bloccato sì sì a me non me la dà bloccata sì sì se no prova a fare così aspetta un attimo adesso hai rovinato hai rovinato un sogno potevamo averti due volte nella live potevi farlo posso sempre farlo vabbè se ti riblocchi vai di là raggiungiamo questa ubiquità a questa live possiamo insomma ok perché no perché posso fare così volendo vedi ancora no ancora non ci sei è qua ah è qua no no non sta cambiando niente non si vede adesso adesso oh ecco ecco si è visto un indice entrare prepotentemente ora c'è una bella riparta sulla sulla sull'obiettivo infatti lo sto guardando malissimo ma non l'ho toccato comunque è arrivato è arrivata la persona che ci farà la live da 24 ore no eccolo è vero è vero frago rifra non so se hai visto quanti follower ci sono ma quindi finiamo questa live e si starta la sua no aspetta cioè ci vuole un pochino di tempo per farlo entrare nell'idea di fare cioè a 100 follower a 100 follower ormai ci tocca ci tocca dire la facciamo bisogna capire un attimo quando ora tra l'altro siamo in zona gialla è anche più facile prima potevamo avere almeno quella scusa e invece non ce l'abbiamo più e quindi diciamo diciamo ok la facciamo la prepariamo non subitissimo però le scuse non le devo dire io ve le dirà fra quando ci sarà nella prossima live ma che poi ma che poi lasciamo a Cesare ciò che è di Cesare e a Fra ciò che è di 24 ore io sono io sono convinto che a 100 follower arriverà Fra che leverà il follow apposta e noi le ne mandiamo altri 10 eh sì sì guarda faccio un account io che non ce l'ho ancora per mettere quello che Fra toglie tra l'altro ogni volta che raggiungiamo i 100 follower deve fare una live di 24 ore quindi se leva e poi la riraggiamo esatto esatto siamo a 100 Edo dice siamo a 100 e quindi Fra grazie grazie di questo contributo ti daremo una mano ti daremo una mano a rovinarti questa giornata registrate questo momento è vero fate una lip di questo momento che è già passato e quindi non è più possibile farlo ma e quindi parlateci di quello che fate su Twitch perché ci siete andati perché ci siete venuti che cosa fate e un fiorino un fiorino parto io vai almeno nel frattempo faccio pace con la mia confusione ok perfetto almeno intanto ti organizzi il discorso e io guardo là perché ce l'ho di fronte per chi non lo sapesse e quindi allora praticamente parto un attimo senza prenderla troppo per le lunghe cerco di partire un attimo indietro nel tempo praticamente io gioco ai giochi di ruolo al vivo che appunto è uno degli argomenti che vogliamo anche toccare stasera se non mi ricordo male ma ne parleremo dopo giusto ne parleremo dopo no ma guarda si può prendere anche l'occasione come scusa si può prendere anche l'occasione per parlarne appena fate una presentazione tutte e due poi si parla più nel dettaglio di quello faccio diciamo quello che viene illustrato nella serie di getalive ovvero fare giochi di ruolo al vivo ovvero darsi spadate spadate nei boschi con le armi di lattice che non è un gioco sessuale ma è invece una roba molto nerd tra l'altro però però qual è il punto è che non si usa solo le spade di lattice ma a volte si usa anche altre robe tipo le chitarre no e continua a non essere una cosa sessuale ok ecco appunto io ho creato questo personaggio che è un bardo e mi sono particolarmente divertito durante questi eventi si è divertita anche diciamo si sono divertiti molto anche tutti gli altri giocatori al che mi era iniziato a balenare in testa di crearci diciamo degli spettacoli sopra dopo una volta che il personaggio è arrivato in fondo alla sua vita ecco parliamo chiaramente è morto e niente volevo crearci degli spettacoli e quant'altro perché comunque ho sempre avuto questa passione anche della musica cantare e fare anche spettacolo e niente era un'idea messa lì parcheggiata da una parte poi è arrivato il lockdown durante marzo l'anno scorso e ho detto sai cosa mi voglio buttare a fare live su facebook così almeno anche se siamo una piccola cerchia di persone di amici passiamo le serate insieme ci scriviamo commenti io suono ridiamo scherziamo e quant'altro e così è partita poi mi hanno fatto conoscere twitch che è un mondo che appunto dà molta più interazione è un mondo che ti dà anche la possibilità di poter guadagnarci qualcosina in più rispetto a altre situazioni che magari ti può servire per migliorare la strumentazione e quant'altro ho detto proviamo a buttarci su twitch e niente praticamente da maggio che sono su twitch e hai salvato le serate a diversa gente durante il lockdown come? come? con il tuo bardo hai salvato diverse serate allora io non faccio nomi Alessandro non faccio nomi perché mi sembra giusto così però c'è una persona che durante questa estate dal niente è arrivata e mi ha portato una bottiglia di amaro così questo è un pensierino per te c'è una persona di cui non mi sarei mai aspettato che conoscevi spero no no conosco conosco certo se non era un po' strano mi arriva questa persona mi fa questo è un regalo per te perché che ho fatto perché devi sapere che durante il lockdown ho avuto un momento veramente brutto e mi sono trovata per caso su una tua live e mi hai svoltato la serata cioè proprio e il periodo proprio mi hai fatto ricordare i live mi sono divertita e tutto e ti devo ringraziare per questo e quindi ti dovevo ringraziare per questo e quindi ti ho portato un pensierino cioè così dal niente e io sono rimasto ci avevo quasi le lacrime agli occhi perché insomma sono bei gesti ecco e niente poi l'amaro portato così il siro il siro è panciuto che altro regalo ci potrebbero fare a no artist e non alcol quindi voleva dire non è che era una persona che ti conosceva una persona che ti conosceva bene va bene basta venire ai live per capirlo non è che non è che ci vuole molto comunque vabbè poi volevo per concludere il discorso ho da questo ho iniziato a streamare qui su Twitch e poi da ottobre ho iniziato a fare le cose un pochino più seriamente perché prima l'avevo preso molto di alla cazza mappi poi da ottobre ho iniziato a fare le cose più seriamente faccio tre serate a settimana porto dei format ben precisi però vabbè ora passo la parola a Enigmind perché sennò no devo dirvi guarda scusa mi interrompo soltanto un secondo perché devo dirvi dice ma faglielo un esercito a sto gatto così ci gioca o le miniature anche lui allora purtroppo in questo momento non sto proprio dipingendo miniature miniature di un esercito ma c'è un pezzo che vi faccio vedere e dovrete indovinare da questo pezzo di che cosa si tratta vediamo va vai tra un po' tra un po' ah ok prego prego io invece a differenza del bardo sarò molto sintetica perché perché non vorrei buttare all'aria a modo mio la scaletta perché sappiamo no no tranquilla è già esplosa vai pure libera esplosa quindi farò esattamente la cosa contraria e niente io sono arrivata qui perché avevo intenzione di fare le cose per bene divulgazione roba seria così ogni tanto ci provo però mi diverto troppo per rimanere troppo nei binari del parlare di cose serie quindi ogni tanto succedono anche cose diverse poi niente ho una turma quindi cos'altro hai fatto anche un sacco di giochi con la chat con i punti canale che ho usato anch'io sì ho capito che la cosa più importante per me è prima di tutto divertirmi e penso che quello che è venuto fuori alla fine la community che alla fine condividiamo io e il bardo ognuno per conto suo cerca di coltivarla il più possibile questa è la cosa più importante qui su Twitch sì sì tanto se non ti divertite per primo non fai qualcosa non fai qualcosa che intrattiene gli altri insomma si vede assolutamente sì ora poi per quanto ci riguarda vai vai per chi non conoscesse naturalmente i loro due canali qui nella nella chat qui o lì a seconda di o da che parte verrò fuori vedrete stanno passando i link del loro canale vi consigliamo caldamente di andare di andare a visitarli perché effettivamente ti spacchi dalle risate e e niente detto questo c'era e continua fra gori fra continua a bussare alle porte di questa di questa chat dicendo che c'aveva una domanda da fare ai bardo Pierardo falla cioè invece dire c'è una domanda da fare falla punto siamo siamo moderatori fra gori quindi insomma te la vedono insomma si ma vi può scrivere anche in privato no certo e tra l'altro te sei un vip mi sa hai fatto questa serie come attore mi sa che dovresti avere una coroncina o roba del genere comunque facendo un passo indietro facendo un passo indietro da twitch quindi ritornando non non due passi indietro quindi al live ma andando a a parlare della della serie di quello che avete fatto per per questo progetto di questi anni che avete deciso di sacrificare in nome di questo progetto come tutti noi alla fine ci abbiamo buttato chi più chi meno ma meno di sei anni non ce li ha buttati nessuno buttati non è la parola giusta diciamo è investiti investiti no neanche quella è giusta noi si investiti investiti bravi 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 bravissimi e Deo Vivi ci ha contagiato allora ci sono tra l'altro degli aneddoti sui costumi o qualche cosa spero venga fuori perché perché sono veramente belli però raccontate raccontate la vostra esperienza con Get Alive cioè dall'inizio che cosa è successo cosa fa cioè come siete arrivati e cosa fa un costumista su un set in particolare sui set di Get Alive insomma a parte asciugare i vestiti di notte con il phon fa anche altre cose il costumista quando mi è stata proposta questa cosa devo dire che eri giovane ero giovane eri molto giovane eri molto giovane ero il cartonato del bardo Fieraldo c'è di nuovo il suo cartonato è giunto il momento con la sua espressione più intelligente si sta scartonando però lo vedo si era scartonato no 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 torna di là o doppio o niente torna di là aiuto aiuto cadono cose cadono va bene abbiamo imparato a fare un'altra cosa durante le live di Get Alive fare guidare la macchina si cioè abbiamo fatto tanti chilometri le live di Get Alive si lascia stare per formazione professionale durante le riprese durante le riprese durante i live di Get Alive giustamente si 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 va bene chi è che vi ha ritornando in topic chi è che vi ha imbrogliato così tanto allora diciamo che lì per lì sembrava una cosa semplice io mi sono mi sono detta vabbè faccio un sacco di vestiti che sarà mai fare il costumista che differenza ci sarà perché li facevi per per il live no li facevi per i ragazzi per il tuo filo dal vivo ma anche abiti storici ho fatto diverse diverse cosine quindi dato che comunque la serie tratta di giochi di ruolo dal vivo fantasy era comunque il mio ambiente vengo dalla revocazione storica medievale quindi insomma non doveva essere una cosa complicata poi comunque anche quando ho visto i i disegni i progetti di quello che dovevano essere i vestiti disegni di elisa bolli questo ci sentivo a dirlo che tra l'altro visto il considerato che qui qualcuno ci sono anche diverse persone che seguono anche le nostre live elisa bolli è stata ospite durante un l'art for dummies e appunto ha fatto anche degli schizzi degli schizzi disegni in corso in corso di live ecco elisa bolli che praticamente vi farei questa piccola parentesi sì aveva una descrizione dei personaggi anche lei giocatrice di ruolo dal vivo quindi soprattutto conosceva molto bene l'archivio di costumi della stanza master del luce nera che è l'associazione che più di tutti ci ha dato una mano con i costumi diciamo praticamente tutta get alive è coperta a parte i personaggi è coperta dal gruppo luce nera conoscendo bene quello che c'era ha disegnato con quella roba lì ha disegnato più o meno le cose che c'erano nella stanza master più qualche cosa in più di completamente nuovo tipo quello di ugo e e quello di insomma di kevin e di drasar che sono ma che poi in realtà ha gli abisi alla fine solo crom e filippo c'è solo duccio e fra hanno costumi di recupero tra l'altro c'è una cosa bellissima e poi vi ripasso la parola perché anche io sono come bardo andiamo a parlare non mi chiedo più i pantaloni di filippo vorrei vorrei aprire questa parentesi sui pantaloni di filippo un giocatore venne a fare il personaggio giocante pietro paolo mi sembra che mi sembrava che fosse pietro paolo dell'associazione nox che ci stanno ascoltando veramente un enorme abbraccio spero che qualcuno ci sia o che capiti nelle prossime live e praticamente venne a fare il personaggio al gruppo luce nera il suo personaggio morì e andò a fare il png e si sa benissimo che quando te ti svesti dentro la stanza master appoggi per caso un tuo vestito su una delle casse della stanza master ovviamente sparisce tutto sepolto dalle casse sepolto dalle persone che dormono sulle casse e quindi lui questi pantaloni li aveva persi e noi quando si è iniziato a fare questa serie abbiamo detto cazzo questi pantaloni sono perfetti che ci fanno in questa casse a posto lui praticamente non vedeva i suoi pantaloni da due anni quando ho visto la prima puntata di Get Alive anzi la seconda perché nella prima forse si vede da pochissimo ha detto ma quelli sono i miei pantaloni noi non lo sapevamo lui a distanza di tempo venne a Lucca al nostro stand e gli fa ciao ragazzi oh bellissima Get Alive ma quelli sono i miei pantaloni ormai ma poi ce l'abbiamo girata praticamente tutta con quei pantaloni e poi alla fine per girare le ultime riprese lo abbiamo ringraziato scusandoci e li abbiamo rifatti della stessa della stessa foggia questa forse è l'unica cosa che non hai che non hai cuscito perché era proprio in fondo in fondo era uno l'ultimo episodio c'è c'è un altro pezzo che viene da un warp la zelia la zelia vero è vero la zelia li ha riusciti c'è c'è un altro pezzo che viene da un warp sai c'è un altro pezzo che viene da un warp il portamonete di Ramona ahhh è vero ma anche quello fu perso da qualcuno si era stessa cosa perso durante un live del luce nera è stato dal warp del luce nera è stato risucchiato nel portale dei vestiti del live ma quello era non è mai più ricomparso ma qualcuno è scomparso è scomparso un portamonete è così no vabbè poi c'è questa altra cosa bellissima degli stivali di duccio questa ve la lascio raccontare a voi già questa è una una di quelle cose che fanno parte dei traumi si esatto esatto vuoi raccontarlo te no no vai lo racconto io sicura si sicura si vabbè eravamo alla festa dell'unicorno ok eh già questo c'eravamo messi d'accordo il punto loro organizzatori nonché come si come si chiamano sceneggiatori ecco gli sceneggiatori della serie praticamente ci fanno ragazzi portiamo i vestiti si potrebbero esporre ah vabbà ma noi abbiamo anche dei manichini si portate anche i manichini almeno si vestono vabbè si porta tutta l'Europa naturalmente eravamo a vinci e quindi insomma si sa a riprese tra l'altro a riprese non assolutamente finite quindi no no assolutamente no no che tra l'altro era nella pausa del crowdfunding mi sembra se non ricordo male io le le più o meno la cronologia delle cose eh sì ora faccio fatica anche io l'ho riguardata tipo una settimana fa i nostri diciamo che l'età non aiuta dai no vabbè mettiamola su questo piano dai mettiamola su questo piano va bene comunque riprese assolutamente non finite anzi eravamo proprio agli inizi ancora sì quindi vuol dire girati i primi tre episodi e dal quarto in poi bisogna girare sì esatto esatto diciamo che anche probabilmente anche i la percentuale volume non aiutava per dirla esatto sì 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 ecco praticamente niente abbiamo fatto tutta Vinci e così arriviamo a riprendere tutto per andare via e quando andiamo a ricontrollare tutta la parte costitiva costumistica questi stivali non c'erano più scomparsi è successa la stessa cosa col bastone di Kevin anche ma ma lo stesso anno non anno dopo il bastone di Kevin è stato ritrovato gli stivali no dopo aver rifatto una nuova però ma il bastone di Kevin ragazzi è stato ritrovato praticamente la sera io ho preso il bastone e andai a giro e stavo ritrovato neanche a Roma né Lazio un generico perché praticamente nell'andare a giro per Vinci ha appoggiato questo bastone in qualche in qualche stand però io non mi ricordavo che anche gli stivali di Duccio erano spariti lì davvero? sì no a Vinci sono sparite diverse cose sì certo molto bene molto molto bene no ma quelli non si sono non sono mai stati ritrovati ma poi gli si rompevano di continuo quegli altri cioè anche quelli che gli si erano dati cioè gli si erano rotti tipo tre o quattro paio diversi sì sì di cui un paio erano erano un avanzo dello stanzone del gruppo Luce Nera erano questi questi i famosi stivali che non erano di nessuno forse erano di Bernardo ma non si sa sono stati anni anni allo stanzone ma non erano della misura di nessuno finché una volta capitarono sui set e anche anche quelli sono stati stivali di Duccio tipo sono tipo quattro recast diversi di stivali durante tutta la stagione non è l'unica cosa che non corrisponde che non si aspetta c'è il termine raccorda incoerente incoerente ma c'è un termine proprio tecnico non si raccorda non si raccorda esatto non è l'unica cosa che non si raccorda direi di no però la sfida in realtà è stata a parte i costumi che comunque sono stati preservati facciamo divulgazione scientifica su questo canale bravo bravo per chi non lo sapesse voi che ci state guardando il termine col termine raccordare quando si parla del cinematografo si parla di quelle cose che tra una scena e l'altra o tra un'inquadratura e l'altra dovrebbero essere uguali per esempio se io ho questa sciarpa qui molto così ad alpina attacca la musica in questa scena la devo avere anche nella scena dopo se io sono qui e chiacchiero e faccio la mia azione poi torno in scena senza la sciarpa questa cosa non si raccorda e c'è una persona sul set che è la segretaria di segretario segretaria di edizione o l'aiutoregista che dovrebbero stare attenti a queste cose qui a tutti i raccordi eccetera eccetera noi naturalmente ce ne siamo sbattuti nonostante ne avessimo due avessimo due due segretari di edizione uno è Deo Divi che è stato allenato senza sapere minimamente niente di questo mestiere è stato allenato è una segretaria è una segretaria di edizione è stata allenata da dall'Alba Alba Luna Lopez che ha fatto poi anche il premontaggio dei primi episodi di Get Alive ed è stata un po' una delle madonne di questo di questo progetto che ci ha proprio salvati salvati in maniera miracolosa vi potete immaginare un set incasinato come Get Alive discontinuo riprese a distanza campo e contro campo di due anni tre anni l'una dall'altra senza io suggerisco una figura nuova per un prete per la prossima stagione se mai ci sarà un parrucchiere un parrucchiere parrucchiere abbiamo al trucco l'Elisabetta Bussini e poi speriamo di fare una live anche con lei così se entra se entra più più nel dettaglio però sì il parrucco effettivamente sarebbe servito oggettivamente sarebbe servito una truccatrice sola su 6-7 personaggi tutte le volte sul set saputo il giorno prima è tosta è tosta veramente tosta no no perché ci sono delle scene in cui la capigliatura cambia 4 volte la mia in una puntata passa proprio di livelli ecco per esempio una cosa che secondo me si è raccordata sempre bene sono state i tagliettini da barba fatta 5 minuti prima di The Razzar tutte le mattine sui set nel bosco anche si faceva la barba allo specchietto della macchina e tre volte c'ha tipo la faccia gonfia con i pallini ma come vedo il specchietto della macchina aveva i camerini ma cosa stai dicendo certo sì sì erano quei tre sassi di ghiaia sotto allo specchietto erano il mio camerino e mandava bene il bardo è bloccato il bardo ogni tanto si blocca vedo che si scartona si scartona abbastanza velocemente sbardate il blocco secondo me lo fa apposta sì sì anche secondo me eccolo allora ritornando ritornando allora ricapitolando perché noi stiamo stiamo chiacchierando tra persone grazie per il follo zio zius tra persone che si conoscono e che sanno quello che che credono che pensano presumono di sapere quello che dicano però grazie per il follo per chi ci sta guardando loro che sono i nostri costumi si sono occupati sia della parte di preproduzione ovvero quello di prendere i bozzetti fatti dall'Elisa e trasformarli cucendoli in costume non solo non solo cucendo i costumi ma anche trovando tutti gli accessori cinture borsine simbolini bastoni armi e ritagli eccetera eccetera non solo di questa fase di preproduzione ma anche della effettivamente lavoro sul campo quindi vestire gli attori ricordarsi e ricordare agli attori di avere sempre tutte le cose che loro gli compete tipo mi ricordo anche lì ora si spara sempre sulla solita preda facile però la faretra di fra la faretra di fra quello era un accessorio malefico perché non era facile tenerlo in una posizione stabile e quindi si l'ho odiata tanto quella faretra ma tanto in alcune scene in alcune scene che voi non vedete in cui fra deve estrarre le frecce c'è uno dietro che gli regge la paredra oh questo chiocca questo chiocca 87 mi suona di un personaggio conosciuto così eh più di uno sì eh sì eh sì Bagetti Bagetti che poi l'ho visto il discorso mi riallaccio un attimo perché mentre Iulia ha curato più la parte della realizzazione degli abiti io invece ho curato più la parte degli accessori cioè lei è l'artista e te sei il mulo come? lei è l'artista e te sei il mulo vuoi dire questo? no 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 che io ho fatto più la roba in cuoio anche perché io cuscire mi dai una macchina da cucire sì la bevi probabilmente faccio le cuciture storte invece sul cuoio me la hai fatto anche un'altra cosa oltre al cuoio hai performato a parte le modifie dell'elmo e lì c'è un'altra storia da raccontare che l'abbiamo forse già detta in qualche live sì ma va raccontata meglio va raccontata no anche quelle su facebook forse forse è partito qualcosa anche in quelle abbiamo fatte nel primo lockdown e cioè hai fatto hai insegnato a a duccio almeno a duccio e a frano mi ricordo se a tutte e due ma a duccio di sicuro sì a picchiare male cioè a picchiarsi come ci si picchia in un live senza senza cioè in un modo del genere con un personaggio del genere che non è insegnare a fare un combattimento ma insegnare a fare un combattimento come si combatte in un live quindi esatto in un live per una persona per un personaggio come di quel tipo loris e tra l'altro e sì ho fatto anche qua qualche coordinamento di combattimenti un pochino in certe situazioni interrompo un secondo rispondo un attimo a blackthora tredicesimo dice che non c'è l'abbonamento per il canale ci sarà nel senso ancora siamo in quella in quell'ambito fumoso in cui non siamo affiliati ancora siamo affiliati ancora per twitch siamo delle larve ancora dobbiamo schiuderci dal nostro bozzolo ma grazie a voi che vedrete che vedete queste queste live che ci seguite presto arriveremo anche ad avere requisiti per l'affiliazione e quindi potremmo sbloccare tutti quei perk di secondo livello che che sono gli abbonamenti e tutte le cose annesse e connesse esatto si spera nel giro di un paio di tra questa e forse una prossima una prossima diretta si riesca a ottenere l'affiliazione ci dovremmo più o meno essere una delle prossime dirette per chi si è collegato in questo momento visto che abbiamo raggiunto i 100 follower sarà la 24 ore di fra esatto esatto approfittiamo per dare l'appuntamento giuà ne approfittiamo per dare l'appuntamento anche per la prossima per la prossima diretta ce l'abbiamo diciamo mi sembra vero che forse è domenica prossima ad EODV conferma perché lui è la memoria storica di tutto continua a fare la segretaria d'edizione mi ricordo domenica ci dice anche gli ospiti poi vero perché c'è c'è roba c'è roba succulenta poi lo scriviamo lo scriviamo noi ci siamo buttati così con due esperti e due newbie per poi avere avere insomma un team eterogeneo già un pochino più rodato così non vedrete più almeno la mia brutta faccia e diciamo a fine a fine di questa live diciamo diceremo gli ospiti bene parlare in italiano corregiuto gli ospiti della prossima si siete costretti a guardare ok Tassadar consiglio consiglio ricevuto spammiamo un pochino di più è che ok ci piaceva scrivere le cose direttamente quando sappiamo che le facciamo ok facciamo questo senza fare un over promise come si suol dire e tra l'altro volevamo in realtà partire molto molto lentamente e farne una settimana a pieno regime in realtà siamo partiti subito a quello che noi pensavamo fosse il pieno regime vediamo come va e poi ci aggiustiamo però sì lo scriviamo sicuramente più volte magari lo postiamo anche su su instagram la facciamo circolare un pochino di più guardate colgo l'occasione per dirvelo tanto cioè nel senso penso sia un'informazione utile anche per chi sta guardando eventualmente ecco adesso puoi andare di là a dirla questa cosa sei di nuovo sei frizzato presto presto fate una clip per favore di questa cosa oh bene bene salve è molto bella questa cosa uno non mi bastava poi mi sono frizzato in una posizione veramente orribile no guarda ti giuro riguardati la live era peggio quella prima era peggio quella prima molto peggio ok se avete dei post vecchi scrivete andate che andate a live come commento dei post vecchi così ok sì sì poi ci rileggiamo anche per bene tutti i commenti della chat e seguiamo tutti i consigli ogni volta comunque io invece colgo e in approfitto abbiamo nominato anche Moses Handcraft seguite anche il suo canale molto molto apprezzatissimo mi sa che è già passato anche in in chat del la sua presenza anche su questo su questa piattaforma ok intanto mi sono sbloccato sei sbloccato sei rientrato bene allora l'elmo non lo so se vogliamo continuare a parlare un pochino dei costumi anche che ce la racconti a stare l'elmo tutta no no la racconterai te adesso no 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 la racconterai te no 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 io ho raccontato quella prima dai su io ne ho altre quindi vai ok va bene la racconto io allora arriva l'elmo e la storia dell'arrivo dell'elmo è stata raccontata nella scorsa live in soldoni è stato recuperato il giorno prima delle riprese con un ultra leggero da pistoia a san marino comprato riportato a prato e praticamente dato a loro il giorno prima delle riprese è stato dato a noi perché c'era da fare delle modifiche per renderlo più faigo tra cui appunto sistemare le corna perché erano orribili e dondolavano tutte poi c'è stato da mettere i faraorecchi in cuoio che ho fatto io insomma tutta una serie di modifiche e da imbottirle un po' perché effettivamente era un po' largo è stato sistemato è stato messo in testa a Duccio nonché Loris nonché Crom non voleva venire e stava calzava alla perfezione primo combattimento pa 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 boom l'elmo va giù e Duccio con il naso spaccato subito unicubo taglietto a sopra però insomma era un taglietto insomma era un piccolo un piccolo set qui sul naso che ci ha fatto veramente preoccupare a tutti perché prima ripresa era proprio il primo take del primo combattimento quest'elmo gli scende sul naso e gli fa un taglietto sul naso meno male che è Duccio perché se ci fosse stato non lo so un attore magari trovato trovato con con tutti i crismi invece di trovare la persona adatta e perfetta ai nostri scopi tra i nostri amici sarebbe stato un problema insomma per un attore su un set e poi oltretutto mi sa riparato il naso da fra con l'attack mi sembra di ricordare gli incollò la ferita con l'attack chiusa dai baci chiusa dai baci ma i baci allo stanzone siamo usi quando ci si taglia con i trincetti a richiuderci le ferite con l'attack con l'attack in continuazione e poi sull'attack l'Elisabetta gli fece il trucco sopra la ferita sì sì madonna vogliamo parlare dei riflessi sull'elmo c'è tutta la troupe in tutte le scene fateci caso fateci caso in moltissime scene raccontatela io provo a pescarla a pescarla da qualche da qualche ripresa c'è ce n'è una che però non mi ricordo se poi è andata a finire in montaggio o no mi ricordo questa cosa qui che eravamo lì all'acquerino nel bosco a girare ed era una delle scene la scena del combattimento al baule una delle poche abbiamo girato con due macchine sì e mi ricordo questa cosa qui che c'era in un campo la prima macchina riflessa su una parte dell'elmo di Duccio e nel controcampo la seconda macchina riflessa nell'altra parte dell'elmo quindi c'era riflessa una e due in questa maniera no è impossibile tra l'altro tra l'altro visto che siamo nel tema dell'elmo vi racconto brevemente un piccolo aneddoto tra un sì brevemente tra le prime riprese quelle che furono poi le successive il materiale rimase a noi e l'elmo siccome avevamo una casa particolarmente umida a quei tempi l'elmo si fece si iniziò a ossidare tutto quindi io persi veramente una giornata a fargli più passaggi di prima la mola poi la mola con con il la sto passando eh la vedete con tutti tutti i passaggi possibili per rimetterlo per levargli l'ossido e rimetterlo a posto finì arrivai da Emanuele che era uno dei registi giusto sì sì esatto arrivai gli feci guarda l'ho sistemato mi è venuto un po' più opaco perfetto mi fece perfetto almeno si vedano meno le macchine riflesse sì sì era un incubo sì 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 vedi aveva avuto i soldi di The Mandalorian si poteva girare in un set tridimensionale dove la cromatura in realtà aiuta vedi la prossima serie si fa si fa lì sì sì andiamo andiamo lì in quegli studios lì dove sono a Capannori vero hanno lo stanzone la Disney per fare quella roba lì no non era a Porcari a Porcari vero a Porcari c'è l'industria Light & Magic divisione Porcari dove ci hanno girato The Mandalorian comunque ci è sfuggita un po' a tutti una domanda chi ha fatto le armi è stata fatta un po' di tempo fa però giusto allora tra l'altro io penso sia sarà motivo di di un'altra live perché lì si rientra un pochino più verso anche se è una prop ma si rientra un pochino più verso la scenografia è un po' borderline se no bisognava ospitare tutti tutti insieme invece ci piace poi entrare nello specifico più delle delle varie cose le prime armi credo sia un misto tra fatte da zero recuperate allo stanzone del luce nera recuperate probabilmente a qualche a qualche pg mi sembra allora le prime non so se le ha fatte Riccardo Madioni e poi invece Riccardo Taurisano ha fatto il secondo il secondo bastone oppure no il primo per esempio bastone di Kevin era quello di Marta della maga fatto credo da Riccardo Taurisano che abbiamo fatto rosso noi l'uovo infatti si vedono le scene di un documentario che presto andrà su youtube della preproduzione subito prima delle scene delle scene di live in cui si vede il bastone di Kevin con l'uovo ancora bianco sopra poi quando diciamo si perse questo bastone e si doveva girare pochi giorni dopo fu rimpiazzato da un altro bastone del gruppo Luce Nera e il motivo per cui cambia bastone Kevin non è per motivi di sceneggiatura ma è perché non ce l'avevamo e dopodiché purtroppo poi dovevamo girare delle scene ambientate prima quindi quel bastone ci doveva essere per forza e quindi questo bastone prestato ci è servito per farci fare in tempo zero un bastone identico a quello di Kevin da Riccardo non mi ricordo se l'ha fatto anche Velolit Taurisano forse sì poi lo invitiamo gli chiediamo anche scusa a Riccardo e anche Riccardo Madioni forse ha fatto ha fatto diversa roba poi vabbè lui ha un altro percorso di di scenografia che ha iniziato a fare qualcosina con noi insieme a Francesco Bacci a Daria Pastina e poi l'ha trasformato anche in mestiere come era anche Fra era lì diciamo sono bloccato un'altra volta sulle armi sulle armi ho da ho da raccontare un aneddoto io perché l'ascia di Duccio è l'ho fatta io la feci io l'ascia di Duccio la feci per un personaggio del gruppo Luce Nera io ho sempre fatto poche armi perché sono puntiglioso e quindi le faccio proprio con una perizia maniacale ma non me ne sarei mai truncate una mai è durata sei anni quella quella di Duccio si è aperta così cioè in più di un'occasione a volte a volte abbiamo anche veramente sui set scocciata perché le botte che dà Duccio sui groppone ma un'osa del genere non avrebbe retto neanche un'ascia vera e ha sfasciato l'ascia più e più volte e più e più volte ci siamo ritrovati a rincollarla e rinpaninarla perché erano fatti da due panini di plastazoto che è il materiale su cui materiale spugnoso di cui vengano fatte le armi per il live due queste panine puntualmente le apriva come delle cozze scoprendo l'anima dura all'interno che è data sui groppone non sarebbe stata piacevole mi sembra che fu rifatta anche quella poi alla fine quella alla fine fu proprio rifatta da capo rifatta perché era anche proprio bollita perché poi anche con il sole la polvere il lattice che c'è sopra poi stava iniziando a prendere l'AIDS esatto la famosa AIDS esatto esatto sì sì quando proprio il lattice fa reazione credo con con gli ultravioletti mi sembra che sono contenuti normalmente nella luce solare si 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 sfalda fa reazione e diventa appiccicoso e quindi incamera tutta la polvere e la sporcizia del bosco e diventa un panino molliccioso intoccabile e poi non ti separi mai più dalla presa dell'arma e poi si attacca all'altre armi si attacca si attacca alle altre armi e lo attacca alle altre armi è incredibile per quello è è stata chiamata in questo modo comunque visto che si parla di costumistica e quant'altro vi voglio ricordare due momenti io voglio ricordare con il cuore due momenti epici due la scena finale no no per epici a livello di costumistica la scena finale della prima puntata quando c'erano 40 comparse vestite non so se vi ricordo quella che abbiamo tagliato no lui dice il crane il crane di Marcello su Marcello e dice quello esatto quella non è stata forse la prima inquadratura live che abbiamo fatto la sì perché era lo stesso giorno in cui Duccio s'aprì naso sì esatto esatto solamente 40 persone e la taverna la taverna mamma mia la taverna la taverna forse non la possiamo raccontare proprio tutta tutta però tra l'altro mi sto ancora mangiando le mani perché è stato uno dei pochi giorni di ripresa in cui io ero assente per motivi di lavoro ero altrove proprio fisicamente quindi ho patito tanto per questa cosa per essere mancata questa cosa me ne hanno raccontate tante e niente no no la taverna non si va nel penale non si va nel penale però ci stavo ci stavo pensando effettivamente ma se la possiamo raccontare o no poi mi è venuto in mente che in realtà avevamo chiesto avevamo chiesto i permessi di girare e fu attivata fu attivata anche l'Enel per portarci una corrente straordinaria perché non c'era più corrente in quella casa è una casa che è stata affittata per tanto tempo dall'Oce Nera sono stati fatti un sacco di live in questa casa e mi ricordo perché ho visto nel guardare i documenti di Getalive ho visto la richiesta di attivazione speciale dell'Enel attivazione che non ci fu allacciata erano tre giorni di riprese e fu attivato il terzo giorno fu attivata quindi le scene iniziali della della taverna sono fatte poi ne parleremo quando verrà a trovarci il nostro direttore della fotografia ma ci sono delle scene epiche in cui veramente c'era la gente tipo non so se avete presente il sistema di specchi il film legend il film legend quando prendano i dischi di ottone e rifanno rimbalzare i fasci di luce per tutto il castello fino a farla arrivare ecco più o meno la luce in cui la taverna è arrivata in quella maniera cioè è incredibile due giorni di riprese di un set del genere difficile dove senza corrente e senza generatore non c'era neanche generatore cioè tutto a batteria a luce solare proprio vittime assolute della luce solare e forse c'era qualche cosa a led che il giorno dopo era stato preso un po' di batterie supplementari però un completo incubo che racconteremo più nel dettaglio con David sì sì io ho voluto far presente di queste scene non tanto perché erano esilaranti più che altro perché sono state un inferno per noi però era bellissime cioè oggettivamente le guardi tuttora sono proprio belle quella è la vera atmosfera del live secondo me è la cosa che di get alive è la cosa che si avvicina di più alla mia esperienza di gioco di ruolo dal vivo quello e un pochino anche esagerando il dungeon di Astur che è un'altra cosa anche quella i miracoli sono stati infatti quella poi si racconta si racconta non tutta ma la raccontiamo ha toccato di più ha toccato di più il reparto trucco quella sì anche perché appunto tutti tutti erano veramente tante tante ma infatti in quella scena lì poi dico questa cosa poi basta la chiudo io chiudo il discorso in quella in quella scena per quelle scene lì io fui messo appunto a vestire le persone e lei Giulia andò a dare una mano al reparto trucco appunto sì perché non era fattibile non era fattibile diversamente certo anzi fu preso anche qualche comparsa sì sì a truccare sì a quella la Chiara mi sembra inizio a truccare a truccare mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì 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 e poi venne venne gli garbò tantissimo e venne a fare qualche altra ripresa allora visto che io devo rispettare la scaletta vi interrompo questi momenti a Marcord per passare all'altro punto della scaletta di questa di questa diretta che è quella di parlare del personaggio di Kevin non vorrei fare dei coitus interruptus delle vostre discorsi però effettivamente ecco magari restate qui restate qui così poi dopo anche perché su Kevin avremo sul costume di Kevin avremo da raccontare un aneddoto allora io farei una cosa voglio chiedervi di rimanere qui perché mentre parliamo di Kevin racconteremo anche anche il discorso del costume del mago divano insomma del divano mago della torre rossa allora io vorrei fare vedere una cosa perché mi avete mandato delle foto di alcuni costumi di alcune realizzazioni che avete fatto e prima di passare a quest'altro argomento le farei vedere così le commentate al volo ora io le passerei le passerei vediamo se riesco a metterle live magari le metto sopra le nostre le nostre webcam così vediamo se si riesce almeno almeno i vostri volti allora vai oscuro oscuro noi due e metto le foto per loro allora vediamo un po' ok allora adesso le vedete le vedete chiaramente un pochino con un pochino di ritardo però le vedete ok un abito da sacerdote di Ishtar ovviamente abito fatto per un giocatore di luce nera e con cui mi sono divertita tanto a fare questo vestito a dire la verità mi è piaciuto mi è piaciuta l'idea e penso di essere riuscita a fare esattamente quello che era la sua idea quindi insomma a volte ci viene incontro ecco colgo l'occasione per dire alla chat che la ragazza qui presente è disposta anche a prestazioni occasionali di costumistica finisci la frase prestazioni occasionali pausa drammatica di costumistica per per i giocatori di giochi di oro e vivo ma anche per rievocatori storici o anche solo per un outfit sbarazzino per il tramato sera insomma o anche per un outfit sbarazzino per il lucahomis esatto ti chiedono Nickmind ti chiedono qual è stato il costume più impegnativo da fare il tuo da mago nero ok ok per il live del luce nera sì sì poi magari lo facciamo vedere per la serie qual è stato quello più difficile per la serie sì sicuramente quello di Marcello perché comunque ha molti più dettagli gli altri sono più sono stati più facili poi il secondo è appunto quello di Drazar e niente gli altri sono stati più facili da fare poi gli altri che sono stati composti ovviamente non mi hanno creato grosse difficoltà possiamo raccontare posso raccontare una cosa al volo tipo del che è stato un vestito per il re sì che c'è stato detto la sera prima no praticamente mi sono arrivate tardi le misure e io arrivarono tardi le misure per realizzare il vestito del re praticamente ho stalkerato nelle foto di facebook no quello è stato per il vestito di Merluzzo no le misure di Merluzzo ce le avevi ah ce le avevi ok lo so non mi ricordo bene e niente ho stalkerato colui che poi ha indossato l'abito del re e ho cercato di capire dalle proporzioni nelle foto rispetto ad altre persone quale potevano essere le sue misure e niente il vestito li calzava a pennello stranamente quindi niente succede ci sono anche queste cose per dare la possibilità di togliere le foto dal dai loro no no guarda io le scorro le scorro e dimmi te dimmi te se c'è qualcosa di cui vuoi guardare questo è un abito per un sacerdote di Loki sempre luce nera sempre il gruppo luce nera come si può vedere i colori sono belli gargianti o si è potuto osare di più nei colori perché appunto il sacerdote di Loki è quello che ha meno limitazioni un personaggio che non è stato inserito nel diciamo in Get Alive si vede forse qualcosa dentro la taverna forse lo annunciamo appena è un personaggio di cui ci piacerebbe parlare vediamo se se abbiamo la possibilità ecco personaggio molto 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 interessante da sviluppare Get Alive è ambientato ovviamente in questa ambientazione da cui proveniamo noi che è quella del luce nera che è questo fantasy ambientato nel Tusco che è un geograficamente ritrende la Toscana a tutti gli effetti con i culti sacerdotali classici però con nomi con nomi un po' storici e un po' e un po' originali poi entreremo nel dettaglio del live molto 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 volentieri più avanti adesso faccio un ancora vado avanti con le foto sì vai faccione vedere un altro paio questo è un altro sacerdote di Ishter vero? questo è un sacerdote di Farnis di Farnis ecco non riconoscevo il sì tre sacerdoti tre sacerdoti di fila questo è un sacerdote di Farnis anche qui sì si è giocato un po' sui colori verde varie tonalità di verde perché ovviamente la natura viene rappresentata bene in questo in questo modo verde e marrone sì verde e marrone ma in realtà è un marrone verde insomma una cosa un po' possiamo salutare Sgravone che intanto è entrato poi abbiamo un mago nero anche anche con questo abito mi sono divertita tanto perché mi ha richiesto un po' di decorazioni dorate su tutti i bordi tutte decorazioni fatte a mano con pitture apposta per la stoffa che non hanno problemi neanche in lavatrice quindi insomma è stato bello queste foto poi le mettiamo sulla pagina così le vedete meglio di come le sto condividendo adesso ecco questo è lo stesso mago nero sì sì io ogni tanto mi si pianta la cam questo è per il vestito di una nana guerriera che insomma ha fatto la sua storia poi nel luce nera questa è la prima fase la prima fase quindi un mago rosso a caso abbiamo 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 sulla sinistra un cartonato e sulla destra un cartonato della stessa persona è così e questo è un vagabondo no non dovevi levarla ti sei scartonato di là ranger ranger argentino lei lo vede appena appena in ritardo non è questo il ranger no eh sì le vedo un pochino in ritardo questo è un cosplay da Dave Grohl vero? in realtà era per la disfida alla festa dell'unicorno e sì un certo l'orberto caos ma è qui è quando avete fatti musical sì quando è finita sì quando abbiamo fatto il talent bellissimo bellissimo troppo bellina questa sì sì effettivamente dice the peak of destiny è una è una citazione bravissima Daphne sempre sul pezzo vediamo che in chat abbiamo persone di una cultura importante no no ma è stato voluto la citazione farlo in quel modo bene le citazioni sono sempre sono sempre belle qui ovviamente la nana guerriera con con l'abito indossato e questo è Peraldo? e questo è Peraldo mi sa no in realtà è Ermete lo speciale sì 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 è il personaggio che il il bardo portava avanti quando io ho iniziato a giocare nel luce nera sì ho sbocciato l'amore sì questa l'ho messa anch'io questa l'ho messa anch'io per l'evento questa foto è bellissima sì questo era il mio primo primissimo personaggio a luce nera ecco il vantaggio il vantaggio di saper cucire e farsi gli abiti quando si fa anche il primo live di solito la gente arriva al primo live con gli abiti fatti con lo scotch acciaioso e quello non acciaioso io ho schiavizzato mia nonna esatto e mi dissocio da questa cosa stavo scherzando nessuna nonna è stata maltrattata per la produzione di questi costumi no nessuna nonna nessuna nonna sì sì esatto esatto questi sono siamo noi due sacerdoti di Farnis pellicciosi giustamente grazie per il follow un altro sacerdote di Loki anche qui un altro sacerdote dell'inganno esatto che tra l'altro è la è la stessa giacchetta che poi ho usato per Pieraldo appunto che ho tutto ah ok ok mi sembra che le foto siano finite guarda che ci viene a followare anche tale Alessio Melani guardate che ci viene a followare buona serissima buona serissima buonasera buonasera bene ok bene Giovanni ok abbiamo parlato di costumi abbiamo visto un po' quelli che sono le opere dei nostri bravissimi costumisti parliamo ora andiamo a parlare di Kevin bene e quindi interpello te interpello te Ale come nasce Kevin qual è qual è qual è stata l'urgenza che ha che ha fatto scaturire Kevin all'interno di Get Alive allora è dura è dura è bella tosta me domanda questa allora l'urgenza l'urgenza è di raccontare la caricatura estrema del del nerd pre 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 accettazione cioè del nerd della vecchia scuola del del frequentatore del nerd inconsapevole e diciamo che non ancora apparteneva alla cultura pop e che poi lo sarebbe diventato e tutta una serie di piccole caricature ed estremizzazioni di ognuno di noi diverse cose tra l'altro vengono da me tante cose però vengono da ognuno di noi c'è anche il fatto di vedere il live come 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 reale che doveva essere doveva essere molto molto più 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 importante nella serie si doveva vedere molto di più poi per problemi oggettivi di produzione l'abbiamo tagliata al minimo a quelle due tre volte in cui si vede in realtà raccontarlo poi due tre volte basta ci ha permesso quando abbiamo girato l'ultima scena dell'allontanamento di drasar dal party in maniera molto più incisiva l'avevamo visto solo due volte c'è la spada poi che cosa c'è c'è qualcos'altro c'era l'occhio di sauron l'occhio di sauron e comunque ecco diciamo l'urgenza è quella di raccontare il il caso estremo l'estremizzazione del nervismo più 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 verace ho risposto bene sì mi è piaciuta ti è piaciuta se il ragazzo vuole continuare a fare questa serie no ecco e anche persone che abbiamo avuto ai live cioè piccoli piccoli comportamenti di persone in qua e là viste in questa associazione in altre associazioni piccoli comportamenti in qua e là racchiusi abbiamo preso il peggio del peggio di tutte le le persone che abbiamo conosciuto e le abbiamo racchiuse in questo personaggio che sinceramente non volevo interpretare io esatto infatti volevo mandare questo le leggende narrano che Kevin Drazar non dovevi essere te non dovevo essere io non dovevo essere io perché all'inizio si disse anche David mi diceva guarda sei perfetto per questo personaggio perché non andiamo a cercare un attore io avevo fatto pochissime esperienze però David diceva no no ma funzioni tanto il live è stata una grande palestra e quindi andrai bene per questo personaggio però io inizialmente mi ero posto questo vincolo se mi fosse occupato della parte di scrittura della parte di creazione di azione della serie non avrei voluto interpretare questo personaggio e sicché abbiamo deciso di aprire il casting ad attori e anche conoscenti il problema è che avevamo individuato e poi alla fine l'abbiamo trovato e la prima il primo pranzo il primo pranzo con gli attori è stato fatto con un con un Kevin diverso perché era perfetto cioè fisicamente era molto calzante conosceva benissimo il mondo dei giochi di ruolo dal vivo quindi sapeva esattamente di che cosa si andava a parlare e poteva funzionare però non sapevamo come avrebbe reagito davanti alla macchina da presa essendo la sua prima esperienza molto bravo nel live funziona benissimo ma davanti a una telecamera è una cosa molto diversa e poi ci ha tagliato la testa al toro perché a un certo punto gli hanno offerto di andare a fare il cuoco in Giappone e lui ci ha detto bonacisi e quindi lo salutiamo Riccardo Mainod che adoriamo e con il quale continuiamo a giocare quando ce n'è quando ce n'è l'opportunità e lui disse ho questa occasione vado e quindi sono sono stato un recast perché a poche settimane dalle riprese perché no a parte no era o autunno o inverno quando si fece sulla cena alla castagna il pranzo alla castagna e dopo un po' di tempo si disse va bene ok fallo te a questo punto non si può trovare nessun altro fallo te e disse va bene ok è stato una delle cose che capitano nella vita e forse dovrà succedere perché dire che mi sono divertito e dire poco ho amato questo personaggio dal profondo e questa serie dal profondo fa parte della mia vita Alessio Melani ci domanda ma il peggio dell'estereotipo dei nerd si vede con le pulzelle nel suo rapporto con l'altro sesso direi in realtà questa domanda a cui non rispondiamo per non cadere nell'instaban però mi non solo mi dà lo spunto per aprire un discorso un pochino più serio perché fa parte il suo rapporto con il gentil sesso fa parte dell'arco evolutivo del personaggio di Kevin e ne collego l'occasione per fare anche un po' anche più divulgazione scientifica del cinema quando noi parliamo di arco di evoluzione del personaggio parliamo di due principali fattori che scatenano l'azione di un personaggio che sono il need e il desire ovvero il desire è quello che il personaggio vuole quello che il suo personaggio sente di aver bisogno nella vita e nella e nella sua azione il desire il need è quello che invece veramente ha bisogno cioè è come dire io vorrei tanto essere più forte faccio per dire fisicamente più forte e io compio tutte le azioni per diventare sempre più forte quando in realtà all'interno delle azioni del personaggio si capisce che lui in realtà non vuole non dovrebbe essere più forte perché casomai vuole prevaricare o vuole ma quanto potrebbe essere più empatico perché il rapporto con gli altri ho fatto un esempio più o meno a caso per farvi capire il rapporto tra quello che il personaggio vuole proprio con tutte le sue forze è quello che in realtà di cui avrebbe bisogno di cui avrebbe bisogno di cui avrebbe bisogno bene secondo te Ale visto che siamo venuti anche da da una discussione molto e a tutti gli attori che sono in questo momento all'ascolto preparatesi preparatevi perché la stessa domanda verrà posta anche a voi quali sono il need e il desire del tuo personaggio Emin ovvero cos'è che vuole Kevin nella vita ma cosa in realtà avrebbe bisogno di ok ok allora è tosta l'abbiamo fatta però l'abbiamo fatta anche in un'altra ottica questa cosa in queste settimane l'abbiamo fatta in ottica di come si evolverà poi il personaggio è vero che abbiamo fatto in abbiamo sviscerato il personaggio tutti i personaggi per arrivare al punto di fine della dell'ultima puntata della prima stagione ma con l'obiettivo di andare avanti quindi devo togliere qualcosa allora il il desire il desire è diciamo essere probabilmente deve essere lasciato in pace nel suo mondo che lui è a posto così deve avere il suo spazio intoccato e intoccabile deve soltanto avere il tempo e la libertà di poterselo gestire come vuole perché sa benissimo quello che vuole e dove vuole andare questo è il desire cioè vuole essere lasciato in pace in pratica non credo ci sia desiderio di accettazione lui è già è già a posto così è come se fosse un personaggio senza senza arco evolutivo cioè lui è parte lì e a livello di desire vorrebbe finire lì cioè che le cose rimangano esattamente come sono perché io acquisisco vado avanti ho più potere eccetera eccetera il un un niserokami esatto tipo le amiche di mamma sì sì proprio tipo liberarsi delle amiche di mamma esatto e della sorella della terribile sorella che lo bullizza tra l'altro si vede pochissimo in quella scena lì io le tiro un peluscio di c1p8 si vede veramente veramente poco cioè per per uno come Kevin tirare un c1p8 è proprio una cosa dolorosa è proprio fastidiosa mentre se invece devo andare nel nel need ovvero ciò di cui Kevin ha bisogno Kevin ha bisogno di minchia Kevin ha bisogno di 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 farsi una vita Kevin ha bisogno di riprendere contatto con la realtà posso suggerire prego emanciparsi ha bisogno di emanciparsi sì forse sì sicuramente può essere contenuto all'interno di questa cosa ma Kevin ha bisogno di avere delle amicizie vere delle relazioni vere ha bisogno di risolvere i suoi problemi con i rapporti umani non solo con non solo con le donne ma anche proprio con con le persone e direi che quella è la minima base che c'ha per iniziare un un arco evolutivo Gioà che cosa era messo che ovviamente non me lo ricordo io no ma va bene va bene cioè più o meno ci siamo lo facciamo anche per per auto brainstormizzarci cioè è una comunque per far capire un personaggio a volte non nasce così come lo vedete a volte nelle menti di chi lo ne ha le idee le partorisce l'idea c'è una una cosa ma poi man mano lo dicevano diventare adulto da fine poi c'è quelli di Nisenokami che meglio non leggere poi alla fine anche come si diceva l'altra volta sul set le parole escono dalla bocca dell'attore se è entrato dentro il personaggio e quindi alla fine si evolve vive di vita propria sembra uno stereotipo dello scrittore che dice ma i miei personaggi si scrivono da soli perché dopo in realtà è vero cioè in realtà con gli attori ancora meglio perché li hai proprio in carne e ossa davanti e il loro rapporto con se stessi e con il loro personaggio viene fuori se se recitano veramente smettano di no ci è saltato Gioia ci si è frizzato Gioia vabbè prova a ricollegarti prova ad uscire e rientrare comunque ecco questo per dire anche anche con gli altri attori verrà fatto questo tipo di lavoro ora io che sono anche dentro la parte di creazione è stato anche un po' strano perché dovevo sia pensarla da creatore che pensarla da attore che ha fatto una trasformazione di quel personaggio su se stesso però questa cosa verrà fatto poi anche con tutti gli altri attori quindi vi chiameremo a turno forse lo facciamo live vediamo se viene più bellino a farla live e svisceriamo i personaggi anche dal vostro punto di vista perché quello che avete fatto tutti abbiamo fatto sul set è stato trasformare completamente un personaggio scritto magari anche in poche righe è fatto vivere da da zero mentre aspettiamo aspettiamo che si ricolleghi vai vai ti posso dire una cosa no c'era non so c'è stato un commento prima non so se l'hai visto bello ma triste allo stesso tempo di Dark Jean che dice buonasera grazie alla vostra web serie avevo convinto mia moglie a partecipare alla sua prima giocata live poi ah bellissimo no che succede si ti sei scollegato ti sei scollegato ti sei frizzato per un attimo ah ero io che mi sono scollegato si si ah ho smesso di diventare io un cartonato io invece sto andando fuori fuoco deve essermi cresciato molto fuori fuoco eh vedi come nell'ultimo episodio vedi così che esce di scena in questa maniera quindi allora riprendi ora provo a rimetterlo eh ok vai a che punto a che punto mi sono disconnesso cosa stavo cosa stavo blatterando allora stavi dicendo stavo dicendo smette smettono smettono poi basta hai smesso te i personaggi i personaggi smettono di essere recitati e gli attori cominciano a viverli e quindi eh si evolvono anche grazie al contributo che danno che danno gli attori stessi al personaggio eh quindi Kevin nasce casomai come un personaggio un po' più ombroso e è come dire un po' più schivo quando in realtà poi anche eh il carisma di Ale e e la sua parlantina invece hanno hanno aggiunto molto a Kevin rendendolo più non dico estroso perché alla fine rimane sempre un un personaggio nerd introverso però molto più entrante neanche nella discussione nella discussione all'interno del gruppo insomma invece di rimanere il classico è che nerd che si aggiusta l'occhiale e basta insomma appena fatto appena fatto e volevo ti metterò in difficoltà un'altra volta Ale perché mentre i nostri amici costumistici parleranno del costume di Drazar te vai vai a recuperare casomai un un'immagine della stanza di Drazar che ci racconta che ci racconta tanto mentre 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 Peraldo e Enidmine Girl che avevano detto male un'altra volta Enidmine Girl ci raccontano la storia del costume di Drazar beh io ho visto i ho visto appunto i bozzetti infatti gli schizzi di Elisa e ho capito che dovevo trovare un un tessuto in modo particolare e niente sono andata dove di solito prendo le stoffe per per gli abiti anche del gioco di ruolo dal vivo però mi sono diretta verso una sezione a parte tende divani beh era l'unico posto dove io potevo trovare esattamente quello che mi serviva tant'è che appunto se se trovate la foto appunto della stanza di Kevin spiega tante cose sì esatto 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 è live adesso notate niente di niente tipo sulla destra quando ho comprato la la stoffa ne ho comprata in abbondanza tra tra l'altro se mi date un istante forse ho ancora un pezzettino di quella stoffa penso di sì si voglia un cuscino un istante e tanto sono nel laboratorio quindi insomma dovrei avercelo qua è mago divano davvero nel nel frattempo come potete notare all'interno di queste immagini ci sono elementi ricorrenti della serie per esempio giusto appunto dietro la sua mano destra c'è l'occhio di Sauron che c'ha non so se vi ricordate nella serie a cosa viene a cosa viene accunato insomma fate un po' voi le vostre traete le vostre conclusioni senza farmele dover dire esplicitamente allora ve la lasciamo al torscherno volevo molto probabilmente durante il mio crash si è perso qualche cosa io volevo veramente fare complimenti a Daphne Daphne perché ha fatto dei commenti cioè ha detto esattamente quello che volevi dire te con meno parole diceva l'arco evolutivo di Kevin diceva praticamente deve entrare nel mondo reale vive perennemente nell'altro mondo quello di fantasia esatto è esattamente la conclusione a cui siamo arrivati anche noi Kevin è quel personaggio borderline nel suo personalissimo Matrix se l'è fatto se l'è costruito e se l'è arredato esattamente come gli piace a lui ma proprio per questo ha delle regole sue che gli altri non non possono non possono capire e non possono entrare e per questo sono fuori dal mondo di Kevin proprio perché non capiscono le regole del mondo che lui stesso si è creato intanto vi deludo dicendo che in effetti con la luce che manca nell'altra parte del laboratorio adesso è complicato davvero trovare sullo scaffale quel pezzo di stoffa però c'è una cosa che forse voi non sapete sulla realizzazione dell'abito di Idrasar che spiega tante cose allora diciamo chi è che ha fatto nella storia chi è che ha fatto nella storia di Get Alive nell'immaginario di voi sceneggiatori no chi è che ha fatto l'abito di Idrasar ah te dici nella nella lore di Get Alive esatto esatto nella loro la mamma di Kevin la Namiacci no un'amica un'amica milf secondo me un'amica milf della mamma di Kevin che fa la sarta eh sì per rendere più realistica questa cosa essendo appunto quel taglio comunque mi ricordava molto quello che avrebbe potuto fare mia madre in quanto sarta più standard non per roba di giochi di roll dal vivo o rievocazione no costume da carnevale quasi sì sì allora mi sono fatta dare una mano da mia madre per per fare quel vestito ma questa cosa è geniale non la sapevo è bellissima perché perché io non sarei riuscita a farlo così avrei cercato di renderlo eh pratico e realistico per il gioco di roll dal vivo ma siccome io mi sono immaginata che quel vestito l'avrebbe dovuto fare qualcuno appunto l'amica della madre o qualcuno del genere con un'età che poteva essere ben diversa da chi gioca di ruolo o comunque da chi fa abiti per per il gioco di ruolo e cosplay e robe così ho detto io non posso fare questo vestito perché lo farei come lo vedo io e allora mi sono fatta dare una mano dalla mamma perché lei aveva l'ottica giusta per fare quel vestito lì lo Stanislavski del costume esatto è bellissima sta cosa è geniale devi passare di là ah ok Gioa si sta disconnettendo un po' era necessario dire questa cosa perché mi sono cioè quando ho visto veramente quando ho visto il disegno quando ho capito un po' il personaggio ho capito che doveva essere in quel modo lì e io non sarei stata in grado avrei cercato di farlo più pratico l'avessi fatto troppo figo non era quello non è un vestito pratico per il live no esatto è molto 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 nel personaggio che se scelte sono assolutamente perfette per un personaggio del genere come anche Chrome c'ha la roba tirata addosso perché lui non c'ha voglia di stasso a fare un costume probabilmente c'ha lo stesso costume che ha riciclato per 300 personaggi tutti uguali tipo la maglietta la maglietta la chicca è la maglietta rigirata la maglietta rigirata che si vede si vede soltanto in una scena tagliata si vede in una scena tagliata e faremo vedere anche quella lì la pubblicheremo su YouTube l'unica scena in cui si capisce che Chrome ha la stessa maglietta che per il live c'ha in un verso nella vita reale c'ha al contrario sotto praticamente Chrome la maglietta che usa nella vita normale girata al contrario ed è veramente la stessa maglietta veramente la stessa maglietta però sì questo aneddoto era necessario raccontarlo su questo personaggio perché poi tra l'altro questo dettaglio delle amiche della madre Milf non lo conoscevo però ci stava ci stava benissimo la cosa nell'insieme delle cose alla fine mi sono resa conto che è stata la scelta migliore è stata veramente un'ottima scelta poi il fatto di aver tenuto la stoffa per fare anche la tenda in casa di Kevin ecco a proposito di casa di Kevin la rimetto farei qualcosa che hanno suggerito in chat ma che era già nelle nostre menti malate ovvero metti l'immagine stiamo zitti un minuto e lasciamo spazio alla chat del gioco per i nerd riconoscete cosa c'è nella stanza ok però se non vi dispiace volevo solo fare un ultimo sceno all'abito di Kevin ok va bene magari poi ci ritorniamo o lo facciamo dopo o lo facciamo dopo facciamolo dopo questo intermezzo ludico un minuto della stanza di Kevin e aspetta nella clip si riesce a mettere anche la porta con il suo allora aspetta la rimando indietro la rimando indietro faccio rivedere la scena e la blocco qui e la blocco nel punto che avete visto adesso allora direi che si può far vedere tutto questo pezzettino qui in cui si vedono dei dettagli allora episodio 5 non c'è niente di spoileroso se non l'avete ancora vista ok ok caccola che fai guardi il porno su internet magari Sharon quante volte ti ho detto che non devi entrare questo è il mio regno hai detto Mellon no si è aperta la porta no e allora mamma Kevin fa ancora le messe nere sul pavimento ok ok è qui che lo volevi far fare mi si è ribloccato adesso si ricollega penso che stia tornando perché si è disconnesso quindi non so di preciso che cosa aveva in mente di fare ma penso ad immaginarmelo dice si va bene questa si no non c'è niente no no io mi ricordo le scatolate di roba per allestire questa camera c'è tanta roba ovviamente di camera mia da malato totale di determinati argomenti eccoti siamo sull'immagine eh Gioà si scusate ma continua a cresciarmi inesorabilmente di discord non so perché ce l'ha con me stasera vai lancia il contest vai lanciamo il contest adesso per i prossimi per il prossimo minuto sbizzarritevi e diteci tutto quello che riuscite a riconoscere in questa immagine ok sono delle cose molto precise è è provabile melo un lupo solitario esatto che cosa non c'è la domanda e se sguinzagliato Tassadar Dungeon Lord lupo solitario Tassadar Tassadar credo che vinca al momento la citazione nerd per il dettaglio del TIE Advanced il TIE Fighter di Darth Vader ha riconosciuto il modello e lo conosce sa che si chiama così bravo 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 sacchetto daddy lovecraft complimenti vediamo c'è un c'è un oggetto in particolare c'è un oggetto in particolare vediamo un po' se andiamo diamo un suggerimento di un film d'animazione giapponese forse è stato detto si è stato detto no 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 quello di talenti no no ok ok ah bravo tassa dall'altro è un bomber si 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 Evangelion era stato già detto Evangelion era stato già detto è bravo 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 Madioni bravo Madioni ti ricordi o Nisenokami è più specifico bravi bravi la statuina bianca tra l'X-Wing e il bomber credo è di Princess Mononoke di Miyazaki si chiamano Kodan Kodan com'è che si chiamano Terriori Gioiai Mimocini ho la testina quelle si si muovono a scatti no non mi ricordo gli ricordo e poi ci sono elementi piccini picciò che si vedono alla pena si si c'è poca roba c'è una bella panoramica Kodama Kodama poi si cambia è anche emblematico vedere cosa stava cercando su internet ah bravo bravo bravissimo si è visto poco prima si è visto poco prima vediamo un po' all'ingresso la porta è anche emblematica lo hanno detto si ma non solo il fronte non so se avete notato il retro della porta lo facciamo rivedere sul pavimento e infatti dice da tra l'altro il post interno della porta è vecchio stile anni 80 nerd serio e duro in realtà ha un suo profondo significato che non vi diremo ma che l'abbiamo già praticamente detto l'abbiamo già praticamente detto ma che l'abbiamo già praticamente detto diciamo che esatto è un poster di Dragonlance Reistlin esatto e vi farei vedere se conoscete la storia bene non vi diremo niente se non la conoscete andatela andatela a leggere vi faremo vedere il subito prima il desktop di Drazar si è aperta la porta no e allora mamma Kevin fa ancora bisogna al tabba prima 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 allora ecco ci siamo quasi qui Drazar sta cercando Drazar su google perché io perlomeno non lo sapevo ma Drazar è un personaggio che è realmente esistito nel mondo del gruppo luce nera è un mago che ha avuto una storia un po' particolare lo dice Tassadar in un commento lo dice la schermata precedente c'è sul computer la pagina dei Dark Eldar da cui il pg Drazar Kevin prende il nome esatto esatto e cioè io non lo sapevo e si decise praticamente lì per lì che questo Drazar che veniva a lucinare aveva preso probabilmente il nome dai Drazar dei Dark Eldar e appena al tabba vedete non so se l'avete riconosciuta che fai? è giusto appunto un'immagine di Rysstrain che si diceva prima insomma tra la porta e il monitor contrapposti ci sono cioè nel mezzo c'è l'arco evolutivo di questo personaggio di Rysstrain di Rysstrain di Rysstrain e quindi l'abbiamo spoilerato ci siamo spoilerati addosso come sempre ok ritorniamo con le nostre faccione io non sono frizzato vero no 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 in questo momento no incredibile eccoci beh diciamo diciamo che ci sono delle cose tra l'altro delle scene tagliate che erano forse più più palesi ancora che sono state tagliate in realtà per motivi di ritmo di puntata e quando c'è una scena al parcheggio mi sembra del quarto episodio alla fine del quarto episodio quando c'è Kevin che si prende lo zaino dell'invicta e se ne torna a casa probabilmente a piedi o in autobus non lo sappiamo e subito prima di quella scena lì quando tirava sullo zaino metteva cioè chiudeva la zip dello zaino e dentro c'aveva un mazzo di carte nere di magic queste dovevano essere tutti dei piccoli micro riferimenti a quello che sarebbe stato poi diciamo il futuro e poi c'è la scena finale la scena finale della questa l'hanno beccata a pochi ma chi l'ha beccata ci ha divertito tanto perché l'abbiamo un po' nascosta sono le scarpe sul tavolo con accanto visto che lui si spraizza le bombolette con la bomboletta rossa le sue scarpe da ginnastica per stare comodo e nell'ultima scena c'è il Chaos Black il primer nero della GV e questo dà un po' di diciamo sono tutte cose che abbiamo detto poi da qui a a capire come si evolverà il personaggio insomma ce ne corre però ci piacerebbe portarlo avanti e svilupparlo sviluppare la sua storia e infatti la questione delle scarpe spraizzate è esattamente un altro dettaglio del costume che volevamo citare io credo sia l'unica cosa che avevamo scritto del personaggio di Drazar cioè che aveva le scarpe da ginnastica spraiate e che aveva gli occhiali però le scarpe no le scarpe si è deciso proprio in fase di allora il discorso delle scarpe da ginnastica che poi vennero spraizzate viene tutto da un personaggio che viene citato anche nella serie che era questo mago nero che venne a fare una sola giocata al gruppo luce nera che aveva si era presentato con questo vestito da mago nero che sembrava un tipo una tunica un caftano con i simboli egiziani sopra e le scarpe da ginnastica le scarpe da ginnastica anche al gruppo luce nera siamo un po' un po' fiscalini su questa cosa e ti dicono guarda con quelle scarpe da ginnastica non puoi giocare no ma perché se vedi le scarpe da ginnastica ti fanno uscire dal personaggio ti fanno uscire dai personaggi le scarpe da ginnastica ti fanno rompere la quarta parete esatto non puoi assolutamente giocare con quelle scarpe con quelle scarpe da ginnastica al che lui disse ma ce l'hai un altro paio di scarpe qualche cosa e che si ce l'ho e venne fuori con delle tipo delle spadriglias tempo dieci minuti cominciò a piovere il mondo venne giù un acquazzone si doveva fare un sentiero che si annaspava nel fango e questo poverino le spadriglias che mezze fino al midollo veramente io penso abbia camminato sui pesce per due giorni interi in questa maniera ed è quello che al parcheggio è proprio una citazione che dice no mamma il deck il deck l'ho lasciato sulla schivania accanto le chiavi accanto al deck al parcheggio fece proprio questa telefonata a sua madre che gli chiedeva di prendere una cosa che era sulla sua schivania accanto al mazzo di carte non so se di magic o di yugioh o di qualsiasi o dei pokemon o di qualsiasi cosa del genere drazzare ecco l'archetipo o l'archetipo non ho mai capito quale delle due pronunce è la più esatta nasce da questo da questa persona qui che venne una volta il mago l'espadriglias esatto è proprio lui l'iconografia di drazzare nasce lì in stanza master viene chiamato il mago nubi dai il mago nubi il mago nubi il mago nubi ho capito perché perché c'aveva sto haftano con le con i simbolini con i geroglifici sopra stupendo stupendo ecco insiede l'ora e torna in live guarda boi io poi è veramente un macello di tempo che non gioco da quando mai fatti il costume del mago nero è stato l'ultimo l'ultimo perché tra l'altro ho detto una cosa anche in questo sono stato inconscientemente rispettoso di questi paletti che ho detto che il mago sarebbe stato l'ultimo personaggio che avrei fatto nel gioco di ruolo dal vivo cioè ho fatto un po' di tutto ma non ho mai fatto il mago perché non ho memoria e quindi ricordarsi gli incantesimi per me sarebbe stato un problema poi non poter far gioco altrimenti ti tirano una randellata sei morto subito e quindi ho detto l'ultimo personaggio che faccio sarà il mago nero e invece probabilmente non sarà così però per fare il mago nero era uscito da poco star wars e ho contattato con la julia e gli ho detto guarda io mi immagino un solo costume da mago nero e gli ho fatto rifare la versione fantasy del costume di kylo ren io penso mi stanno prendendo per il culo tuttora però era era un costume clamoroso era bellissimo tant'è che fra il caso tu abbia puntato sul cavallo sbagliato ma quello non è colpa no la fede la fede è fede la fede è così è sempre bello è stato il più complicato da fare più lungo l'abito più lungo che ho mai fatto per un personaggio a live allora chiaramente è una versione un pochino più fantasy però la stoffa la stoffa è la stessa abbiamo avuto la fortuna che chi ha fatto chi ha dato le stoffe per star wars almeno il risveglio della forza è lobby stock di prato quindi siamo andati lì dal lobby stock e ha detto guarda questa è la pezza che sono venuti a prendere tieni ho preso tutto quello che avevano io ho preso tutto quello che era rimasto tutto o ancora qualcosa non ho lasciato nessun pezzettino a nessun altro perché sì era bellissimo veramente bello poi ho detto vabbè così almeno ho già anche un costume pronto riprendo un attimo qualche messaggio in chat qualcuno c'è qualcuno di importante perché dice ma finita la pandemia ci saranno ancora live del gruppo luce nera sì ci saranno ancora live del gruppo luce nera appena potremmo sdarci ci sdaremo e ci chiedono anche ma quanto vi manca giocare a parte se è risvegliato uno zius appena si è detto geroglifici sei ringanuzzito sì quanto quanto ci manca giocare allora a me dannatamente tanto ma proprio tanto 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 anche perché in quei rari periodi di zona gialla che abbiamo avuto ultimamente ci siamo fatti un pomeriggio un po' freebooter tra poche persone nel bosco ed è stato peggio che meglio cioè avete presente quando non avete tanta fame ma la prima cosa che mettete in bocca vi sapere lo stomaco ecco per me è stata questa cosa esatto esatto confermo confermo ma poi ecco se ne parlerà anche nel dettaglio perché nelle prossime live magari si invita un po' di gente del luce nera per parlare del live poi si parla anche del live dell'altra associazione io per esempio ho fatto qualcuno di cui non dirò il nome dice ma la stoffa l'avete comprata un tanto un tanto è il cailo sì 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 decisamente grazie grazie per dire io durante durante questo periodo quando c'è è stata una riapertura non mi ricordo se si era gialli o se era proprio nell'estate arancione chiaro arancione chiaro esatto in che condizioni si era si è fatto questo live con una piccola one shot con il clavisonni l'ambientazione di Turo anni 20 gestita genialmente con le mascherine ambientata durante l'epidemia di spagnola e quindi c'è un elemento un elemento di di storia che diciamo ricuciva dei problemi oggettivi di di sanificazione continua e costante dell'ambiente quindi contestualizza contestualizza fantasy anche fantasy c'è verso di farla però minchia è fatica che gran fatica infatti tutti banditi eravamo tutti banditi con le band alla faccia è una grande fatica vediamo vediamo che succede sì la la chat si sta sfogando sul fatto che è stata una cosa molto immersiva infatti mi hanno raccontato nella loro nel loro pezzettino di live hanno guadato un fiume in piena è vero devo dirvi stasera è spumeggiante come sempre ultimamente certo gli anni 20 portano bene in tutti i secoli con le malattie bene 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 ok non so se ah vabbè anche Nisonokami dice dei benditi mi sembra un applauso no no ma ve l'ho detto è Deodibi che ci sta contagiando ci sta contagiando ma sta contagiando tutto Twitch ormai basta allora sei tornato fuori fuoco sì 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 l'ho noto per i poteri a me concessi affinché possa arrivare danno io ti invoco mago a fuoco no no io ti invoco meno meno 4 diottrie meno 4 diottrie però valevami gli occhiali ecco così vedo uguali tutti quanti tra l'altro la cosa bella è che io portavo le lenti a contatto sotto gli occhiali graduati perché quegli occhiali di Kevin sono i miei occhiali di quando c'avevo penso 14-15 anni e che erano parecchio meno graduati e quindi tutte le scene in cui ho gli occhiali sono overgraduato nel bosco finivo la giornata con mal di cranio devastante però meglio che Marcello che invece non si metteva le lenti si toglieva gli occhiali e girava a memoria a memoria con le posizioni del bosco cioè io non so come ha fatto noi gli si metteva dei segni ogni tanto tutti ben o male avevamo dei segni per capire quale fosse il punto dove fermarci dove eravate a fuoco dove eravamo a fuoco esatto come adesso come non sono adesso quando eravamo a fuoco e e Marcello riusciva a ricordarsi quanti passi doveva fare e di che ampiezza doveva fare perché nel fondo foglioso e autunnale provate a immaginarvi un segno per quanto giallo fosforescente ma se fai così io ho difficoltà a vedere in monitor proprio a capire dov'è e lui nel fogliame di un bosco riusciva a fare questa roba che insomma e poi anche anche negli occhiali c'era tutta la troupe tutta la troupe riflessa specie quando aggiungo il toppino che aggiunge il nero dietro agli occhiali a quel punto è proprio uno specchio che vogliamo fare vogliamo andare avanti con Allora non mi ricordo c'eravamo lasciati a un certo punto un aneddoto dove raccontare Peraldo che avevano amato spesso era il discorso delle scarpe quindi che poi lo abbiamo riallacciato forse te eri fuori era un momento in cui ero crashato sì ok io direi che se fatto una certa ci si potrebbe anche salutare ma non mi sono scordato di dire quali saranno gli ospiti della prossima puntata perché avremo un altro avremo un altro attore avremo un altro attore che sarà fra questo punto che è successo? ma il pezzo di Filippo? non stavo leggendo il commento di Leo Divi appunto abbiamo riallacciato il discorso sulle scarpe molto benissimo molto benissimo bene abbiamo avremo fra come attore la prossima volta da poter subissare e accompagnato a fra avremo altri due personaggi importanti della nostra serie che sono i curte ovvero il direttore del giornale del capo ufficio il capo ufficio di Fra nonché ideatore di giochi di ruolo è un grandissimo amico nostro sinerefi anime sangue l'ultima torcia e l'ultima bomba nel frattempo c'è il gatto che mi sta saccheggiando i croccantini da solo ma non continuiamo a spoilerarci addosso e poi avremo anche lo Stefanacci invece che è l'altro stagista della redazione lo stagista fotocopiaro che gli ruba che gli ruba l'articolo anche lui grandissimo amico è anche lui ideatore di giochi e sceneggiatore e tante altre cose che ci racconterà quando sarà qui con noi quindi il mio primo cortometraggio l'ho fatto con lui come sceneggiatore con chi tra l'altro c'era anche Maurizio Merluzzo Merluzzo ero più grosso di lui io in quel in quel in quel cortometraggio facevo in macchinista io facevo in macchinista in quel cortometraggio ed è stato la prima volta che abbiamo conosciuto Merluzzo che era non credo ne ancora fosse diciottenne o aveva fatto diciotta anni da poco stava iniziando a dire ah ragazzi io appena finisco appena finisco prendo e vado a Milano voglio fare il doppiatore ancora non aveva iniziato a fare il suo percorso quel primo cortometraggio diretto da Misba è sceneggiato dallo Stefanacci dallo Stefanacci sì e poi magari ne parliamo e magari gli chiediamo anche se ce lo possiamo guardare è girato è girato nella stessa casa dove è stata girata la taverna già è vero è vero e fuori dallo stanzone del luce nera e fuori dallo stanzone del luce nera scusatemi ma visto tanto siamo in chiusura un breve scendo vogliamo parlare dell'esperienza di da attrice praticamente protagonista della nostra costumista della nostra costumista no non vogliamo parlare ma che mancanza enorme che è scusa non vogliamo affrontare questo argomento no no anzi facciamo prima vedere la scena allora aspetta aspetta prima di fare questa scena rispondo a Daphne com'era Merluzzo da piccino allora se quando sentiremo Stefanacci per preparare la prossima puntata cercheremo di recuperare anche quel medio metraggio e vi faremo vedere degli spezzoncini del Merluzzo Pischello sono delle scene impagabili veramente del Merluzzo Pischello non che di Ale Pischello si abbiamo praticamente la stessa età e quindi in quella scena lì io faccio il protagonista lui è l'amico del protagonista già si vede che aveva già una voce parecchio parecchio più portata si sente molto molto meno il toscanaccio però era così era veramente così irriconoscibile allora vediamo un attimo se riesco a recuperare la scena perché non può puoi concedo una cosa del genere dici aspetta vediamo un po' allora dovrebbe essere la se no la la sei vediamo un po' mi sembra continua un bastoncino di merluzzo mamma mia è veramente in forma no è uno di quelli in fondo potrebbe essere l'undici vediamo un po' ma siete sicuri di voler fare questa cosa come ormai va bene no non riesco a recuperarlo è quando è subito va bene va bene così no no non esiste va fatta vedere per forza forse è la 10 la 10 dici la 10 mi sembra è fuori live allora io no perché perché partono subito per il live mentre te cerchi io sguinzaglierei il nostro bellissimo mod per cercarci casomai un ride di quelli proprio con contenuto culturale da fare se è possibile prepariamoci casomai a a raidare qualcuno che abbia un contenuto di di cultura altavocata se se vi interessa c'è anche ci sarebbe un canale dove fanno sessioni di diendi nel caso ve lo dico così ok allora io nel frattempo l'ho trovata ebbè direi eccolo stefanacci direi vedo potrebbe essere potrebbe essere il momento di aprirci a cotanta bellezza si non può pusho scelto che sta in concedio tra l'altro sei sei in questo pezzo che c'ha un tiro della madonna e qui ovviamente scena improvvisata lì per lì sì sì mi ricordo solamente il fatto che mentre venivano preparate tutte le varie cose sono andata a cercare di corsa nei posti più assurdi una vestaglia da donna delle pulizie che non era prevista non era prevista come come poteva succedere solo sul set di get arrive a volte i vestiti venivano improvvisati e questa cosa non a questa cosa non ero pronta non ero pronta vabbè hai tirato fuori anche hai tirato fuori anche la tua lingua natia infatti se se qualcuno si domandasse che lingua parla dici spiegaci un pochino è rumeno ultimamente sto cercando di rispolverarlo si l'ha messo come ricompensa sul canale no che sarebbe schimbalimba io la pronuncio devo ancora imparare una parola ci convivi no in realtà noi non conviviamo cioè siamo in realtà siamo in due posti separati molto distanti avete solo un portale fra di voi per ricongiungere no è un portatile quello del questo è devo dirvi stantezza di mezzanotte yeee oh vabbè nessuno sta presciando il peggio in stanza come il danza come il danza allora noi ci possiamo fermare ci possiamo fermare qui che dici stranamente nessuno stranamente nessuno in chat ha ancora detto cippalippa separati dai monitor in effetti c'è una barriera di monitor vorrei lanciare un monitor come si suol dire ecco stiamo raschiando il fondo insomma vogliamo finire così questa cosa più spumeggiante di così insomma direi che a questo punto possiamo veramente salutarci perché stiamo veramente raschiando il fondo del barile e grazie veramente a tutti di essere stati qui con noi questa sera si si raschia forte e niente ci vediamo domenica il 2 domenica domenica 2 vi ricordiamo saranno con noi ospiti fra come attore e poi avremo i curte come comparsa e anche lo stefanacci come comparsa ma non solo non solo come comparsa verranno anche a raccontarci anche come autori cosa fanno come autori e come nerd a tutto il mondo e buonanotte a tutti grazie mille presto vi daremo informazioni sulla 24 ore presto aspettiamo a gloria ok ma lo state facendo voi il ride perché potete farlo no deve partire da te ok lo possiamo fare anche noi no ah si ok allora possiamo farlo anche noi allora fatelo partire voi vai faccio partire io una cosa mi dicano e poi metteremo metteremo anche in atto credo dalle prossime volte di creare casomai un canale discord per fare quattro chiacchiere tra di noi dopo post live o pre live insomma eccetera eccetera comunque ci occuperemo anche di questo piano piano metteremo insieme tutti i pezzettini non vi preoccupate non vi preoccupate e vi lasciamo con il ride a radio canaglia se è pronto si 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 ci sono ci sono ho trovato è questo vero come? è così vero l'avatar? certo buonanotte buonanotte a tutti pesce da lenza restate a vedere il ride ne vale la pena mi raccomando appena parte il ride stoppa la live si si i fuori onda quelli grossi vogliamo un hashtag non lo dite a nessuno ma l'altra volta siamo stati a tipo venti minuti in live che c'è mentre dicevamo le parolacce non lo dire non lo dite a nessuno non è vero